Oggi siamo quasi un mario tennis 6is ovviamente in compagnia di mio padre la scorza volta ho bestemmiato no però comunque vittorie e sconfitte 4 su 4 perfetto ma sare di di gong a me se sono quei tre ok perché quindi voglio dire che si fa ma ci potete scusare però sicuramente sarà la stessa cosa di oggi prima stiamo i piedi no non possiamo perché c'è no mi dai fastidio ecco bene il bambino non ci capisci niente questo non è possibile c'è la prima partita la prima partita ci sta sicura ci credo poco perché dobbiamo recuperare alla grande vedi che dritto mamma mia che dritto lungolinea non ci credo non ci credo chi è becca di suo cioccolatino va e va va e va se l'avessi presa l'avessi presa l'avessi o mamma mia che non sai altro mamma mia che non sai altro ah 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 no non ci fa perché mi dirà così 5 a 2 o che non l'avamo vista ok ok avvicino è stato eccezionale va mica la chi è qua veramente ragazzi se non già se calavola è possibile non si capite una battuta 5 a 5 dritto ragazzi 5 a 5 forse ce la facciamo oh mio dio dritto o non mi ci dira certo no perché che si ha spostato con braccio perché si ha spostato a quella parte ma perché si deve spostare ma che cazzo ti dirò fatto quello scusate so che se ne vedono anche i bambini sti cose ma ma quella c'è un braccio rotto secondo me non è possibile no li guardiamo bene allora guarda la scena non ci credo guarda la scena no a prima volta così e poi c'è il braccio troppo morfo non lo so ragazzi non so cosa dire comunque stiamo aperte per l'unasima volta abbiamo perso 5 è la prima partita del giorno ragazzi quindi è normalissimo sì 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 tanto portiamo un amato e cane che un'altra volta come lo scorso visita ragazzi non c'è ma è possibile però giova così diciamo ci sta preparare per se vista dentro la valla a g adesso che sono state l'effetto ora non riesco a farò dritto lungolino ma si è spostato solo infatti ti ho detto giù perché ci deve andare tu invece si è spostato come un deficiente Mario cioè io non ci sto capendo no, guarda un po' si ma se lei fa così e non piglia la palla vabbè, apri la tua casa oh, questo mi ha fregato perché ha fatto ma vabbè, dai, va, si è peggiava si è sempre colpa mia i 30 coppia, non ti ho punti, lo faccio io ma vai, vai, vai voglio vedere scanto perché ma non vedi? che ha detto il ritardo ritardo ma che il ritardo dove ha sento che fai per puntare a loro scusa, ma tu va te oh ma ho il capodretto là ci sta a tirapurire guarda che fai per più la spastronza di strega dritto che gira di là sta caldo di palla no, ho capito non ho capito manca l'attività manca l'attività no, da volta l'attività non ci restano la palla ma non ho capito ma mi sembra che sto tirare le bombe tutto due oh tutto due tu hai un uomo ho capito e tira tira ragazzi mi guardiamo al represso sto sudando allora se l'anticipo ti dice che ti ha anticipato e ti frega visto se non anticipi di cogliere forte ma arrivata la valentata te la vede la vede oh ma non ho visto come l'ha presa Cosa ho sentito di vero? Cioè, mi ha tirato una raccattata in destra, ma ne fanno perla Cioè, due su due, questo è l'ultimo allora E' l'ultimo, ultimo Facciamo questo verso, abbiamo, cioè, non ci stanno sconti In questa storia, mi ha tirato una raccattata in destra, mi ha tirato, mi ha rimbambito, non ha visto gli occhi che mi hanno fatto Non ce la posso fare Aiuto E' assolutamente bellissima, tipo, nooo Un gibreo, questo è un campo perfetto per fingere Non ti permetterai Perché hai tirato così in scialo? Ha tirato da solo, non è che ho fatto Ma tu ti muovi Eeeh, io so spiegare cosa hai detto Aiuto Dai, dai Buono, buono Bello Ok, il primo colpo, primo appunto della partita Ce la scommette tutta, ma cavolo Ma JUNO Secondo appunto della partita Tiro secco, cavolo Un tiro secco l'ho fatto Ma mamme, Quanto veloce Sì, fa kat Mobilio ho detto ma dove ne trovi quella forza ma io rimando a cagare direttamente senza passare dal via una bomba di quello perfetto perché perché paratrupa è stupido con la misera è impossibile una donna mia perfettissimo ragazzi io che volevo alzare la difficoltà io volevo alzare la difficoltà e già cos'è difficile è tutto il tempo così va caricata una difficoltà improponibile e tira capo e metto questo mi tirava la tracchettata è un paese a riprendere un cavo oh no tu vado tu mi sape ingrocia brava baby oh 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 se facciamo questo facciamo un'altra eh eh no eh eh no perchè si spera perdiamo la prossima non è così che funziona dobbiamo rimanere con la gloria se decidiamo di farne in alto poi perdiamo non ci sta storia questa volta Se decidiamo di farvi un altro che perdiamo, non rimaniamo solo più con la gloria, la gloria è la gloria dell'incorpo, però ragazzi, se ti vuoi rischiare, si devi rischiare, l'ultimo, vai, ragazzi, vai, vediamo quello, tapparelli, paratrupa, un'altra volta paratrupa e spavillotto ragazzi, no, paratrupa stanco di quello che succede, spavillotto stava, mi ricordo sempre Mario Galaxy, super Mario Kart, è proprio quello, infatti, vado, c'era figlia mia, dovevo rimanere io là, perché a me tu ti mando, e mai comunque non me l'aspettavo che stavo andando avanti, niente, con la gloria non ce ne andremo mai, esatto, vabbè però comunque teneremo le piccole, se non dobbiamo ritornare, basta, guarda, spavillotto, bello, stavolta lo metto pregato, anche se vola, non poteva, bella, perfettissimo, si è imbazzita, è imbazzita, però, perfettissimo, un'altra volta ragazzi, no, è questa, no, non ci credo, non ci credo così, però, visita, è un espresso tanto中, che è la prima domanda, non ci penso, ma non ci credo, però, possiedono tutta questa regulatory, e ho aspettato apposta al punto perfettissimo ragazzi 3 a 4 ma c'è la prossima qua secondo me ce la facciamo a ruborare faccio un peggio race infatti buona 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 porco ciuta ho tirato un spettofilo all'ultimo che capelli che c'è qua ahahah te li hai cantata non puce roccia te la non puce roccia te la non puce roccia buona buona nooo trabinati 5 guarda vada con te lo spavio il lotto ah ca 5 a 4 bella così c'è amici quando si utilizza se mi stavi la valla a me e lo sono vicino a comunque che è becca era dentro stavolta di solito la vedo se sta fuori ma stavolta era dentro Sì, ok Stava messo troppo di là Verso la destra Ok, ok, ok Ehi, sì Bastardo, no Stavo per di qua io Non capisco perché se io Vantaggio, no Non lo capisco veramente Cosa fa? Si è fermata Non ci credo Ragazzi, io non ho parole Una partita persa stupida Stupida Io non ho parole Cioè perché è fatto male Non ci credo Cioè, altrimenti non trovo le scuse Mi dispiace Non ci posso fare Perché è iniziato un'altra partita Ragazzi, noi ci possiamo fermarciare in questo episodio Lasciate un mi piace Commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Ciao a tutti Mamma mia Ciao a tutti